Perché Renzi dall'inizio ha cominciato a, dopo aver voluto questo governo, perché ricordiamo che questo governo è nato molto grazie a Renzi, perché ha cominciato subito a attaccare il Presidente del Consiglio? Prima di tutto perché è inaffidabile. Io ci vedo degli elementi che ti elenco molto velocemente. L'unico elemento politico è che più si cementa il rapporto Zingaretti Di Maio Bersani, più si crea il campo progressista, più non ha alcuna ragione d'essere la forza, si fa per dire, di Matteo Renzi. Perché a quel punto a chi parla Matteo Renzi? Poi però secondo me ci sono due elementi proprio personali che ci sono sempre stati. Il primo è il bisogno di Renzi di avere il centro dell'attenzione. Io sono veramente convinto che tutto questo casino lui lo ha fatto anche solo per vedere per settimane i talk show parlare solo di lui. L'ultimo aspetto che è forse il più importante è che Matteo Renzi detesta tutto ciò che è incarnato da Conte e dal Movimento 5 Stelle. Quindi il grande sogno di Renzi era quello di entrare dentro questo governo e poi in qualche modo disintegrare tanto Conte quanto il Movimento 5 Stelle. Non è caduto il governo un anno fa perché è arrivato il Covid, altrimenti il governo sarebbe caduto sulla prescrizione. Ha aspettato un po', ha aspettato un po' fino a quando ha dovuto far saltare il banco. Secondo me c'è anche un altro elemento. Ho come la sensazione che si sia sopravvalutato tantissimo Matteo Renzi. Quando lo si descriveva lo si descrive e penso a persone intelligenti come Caro Figlio, come Severgnini, è un talento puro. Ecco io trasecolo perché se è un talento puro Matteo Renzi, De Gasperi cos'era?